La tua amica ha due occhi stupendi e non vuole mostrare, a parte che anche i tuoi sono belli. Grazie. Vediamo, Ferruccio, riusciamo a vedere gli occhi? Ah, beh, perfetto. La tua amica, vediamo, vediamo, eccola qua, come ti chiami? Sonia. Sonia, hai due occhi stupendi. Grazie. Ecco, adesso non preoccuparti, non ti mangiamo, ci stiamo divertendo, vieni spesso al nord-est? No, è la prima volta. Com'è allora? Ti piace? Sì, abbastanza. Consiglieresti le tue amiche di venire qui? Sì. Benissimo, ti ringrazio, sai, ciao. Ciao. Siamo nella versione, Michela stai ferma qui, sai, guarda che ti vedo, Michela, do il numero di telefono, dove abiti a tutti quanti in televisione, stai ferma qua, sai. Bene, siamo nella versione mangerezza del nord-est e abbiamo Michela, ciao Michela. Ciao. E abbiamo anche Sabrina, ciao Sabrina. Ciao. State aspettando il panino, cosa state aspettando? No, niente. Ragazzo? No, neanche. Una tua amica? C'è lei. Ah, c'è lei, sei a posto. Michela, hai paura? No. Adesso ti sei ambientata un po' con la nostra telecamera. Sì. Ti ringrazio, Michela, ciao, buon divertimento. Ciao Sabrina. Ciao. E' un rumore. Ehi là. Come andiamo? Come ti chiami? Chiara. La tua amica? Vieni, vieni, vieni. Come ti chiami? Fedora. Scatenata. Vai, 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 vai. Vieni, vieni, va. Ciao. Grazie.